Siamo arrivati con la fiaccola del Fuoco del Morrone alla chiesetta di San Pietro Celestino sulla strada per Pesco Maggiore a Paganica. È stata, come al solito, una bellissima festa di popolo in questa chiesetta che conserva una reliquia di San Pietro Celestino e dei bei dipinti all'interno, fra cui uno molto, molto importante relativamente alle sue dimissioni. Quindi è stata una situazione molto bella e partecipata da parte della popolazione. Questa chiesetta, praticamente, è stata nei secoli intitolata prima a San Pietro Apostolo, successivamente a San Pietro Celestino ed è importante perché tutti gli abitanti del luogo sapevano di questa chiesetta che è stata ristrutturata recentemente nel 2020 ed è bellissima all'interno perché è stata qui ricostruita all'epoca perché è una chiesetta del 1100 e all'epoca che c'erano le guerre fra Paganica e Bazzano fu una delle chiesette fuori Estramenia, quindi fuori dell'Aquila che in pratica furono dedicate al Santo, all'epoca non ancora Santo ma a colui che aveva fatto al Papa che aveva rilasciato la perdonanza celestiniana qui all'Aquila, rilanciatola con la bolla del perdono celestiniano. Quindi fu fatto, proprio in quel periodo della perdonanza, quando Papa Celestino emise la bolla della perdonanza qualche giorno prima riuscì a perdonare i Paganichesi e i Bazzanesi che erano in guerra per delle brighe locali, per terreni e via di seguito.